Bentornati qua su Midnight Fight Esprex, titolo interessante che mi ha subito stuzzicato e che vi porto oggi con un prova e fuggi. Allora, purtroppo non c'è l'italiano, ci sono tipo 3000 lingue ma non c'è ahimè l'italiano. Ehm, tra l'altro vi dico che siamo su Xbox Serie X e andrei subito a iniziare, difficoltà normale chiaramente, giusto per provare. Come vi dicevo il gioco è tutto in inglese quindi ci sarà da tradurre un pochettino, un pochettino. Questo è l'atto 1. Ehm, allora. Poi vi dico meglio in generale, comunque qua si dice che ci sia stato un attacco e lui fa di dichiararsi innocente anche perché non ti ricordi niente di questo attacco. Di conseguenza ha senso dichiararsi innocente. Invece l'altro agente continua a insistere, dici il perché, aiutaci a salvare la città e forse tu non avrai la pena di morte, scusate. Dicevo, volevo dire la morte di pena ma non aveva senso. La pena di morte perché lui, da quanto si capisce, diciamo che con quello che ha fatto avrebbe la pena di morte. E così facendo, aiutando la polizia potrebbe salvarsi, forse però, forse, non è sicuro, non è sicuro. Parti dall'inizio, vabbè, dici tutto quello che ti ricordi, così via. Allora, si parla di un drone, di un drone che parla. Non so bene di cosa si possa parlare, però ho capito, un drone che parla, talking vuol dire parlare. Allora, questo è il passato, questo è quello che lui si ricorda, diciamo che tutto ebbe inizio. Con L ci muoviamo, chiaramente. Va bene. Classico, classico tasto per muoversi. Con A si interagisce. Qua dicono che ci sia caos nella città, i civili stanno evacuando il sito. Ok. Si parla di criminali, criminali ovunque. Loro sono dentro la città. La città, no, forse il palazzo, building, mi sa che è il palazzo, sì. Vabbè, dice che salvate voi stessi. Ok, allora. C'è un pacco, c'è un pacco. Ecco il famoso drone. Troppo lento, amico. Non c'è tempo da perdere. Va bene. Tu sei uno sleeper agent. Un brutale mercenario. Ok. Quindi devo aiutarlo, anche lui, a fare alcune cose. La domanda è perché dovrei aiutare un drone? Domanda molto importante in questo momento. Ma va bene così. Usciamo. Di qua non c'è niente. Con loro non si può parlare. Non mi sembra proprio un palazzo, come dire, pulito, con gente tranquilla. Allora, mi stavo dimenticando. Bisogna riattivare. Ok. Ah, così. Con A si corre, tenendo premuto A. Ma che ca... Scusate raga, ma devo tossire. Mettetemi in pausa. Scusatemi, ma ci sono. Stavo tipo morendo. Allora. Ma si parla di bozos. Cosa è una gang? I bozos. Sì, mi sa che sono tipo una gang. E si combatte. Vediamo un po' il combat system. Sembra molto facile. Cioè, la cosa che più mi ha un po' così è il fatto che non abbiano risposto agli attacchi, no? Sembrava quasi che non potessero rispondere. Ah, ecco. Con Ipsion. Ok. La vita. Ah, ecco, c'è la vita. Ok. Ah, ho capito, ho capito. Con Ipsion si para, con L si... Si contrattacca. Immediatamente. Ok. Tutto chiaro. Il colpo veloce, cioè il colpo veloce, buona notte. Il colpo forte. Ok. Ok. Eh, non è facile. Ah, per rompere la difesa devo premere... Ho capito. Ho capito, capito, capito. Si fa più complicato. Si fa più complicato. Ok. Benissimo. Le basi sono nel tuo sangue. Ok. Sono ancora i bozos, ma sono tantissimi questi titti. Tu sai perché siamo qua, ragazzo? Ok. Ma no, ma perché, poveraccio? Rage Matter. Cavolo è Rage Matter? Non lo so, non l'ho ancora capito. Però è andata bene. Era meglio il ragazzo della pizza. No, pizza. No, pizza. Eh, ma adesso vi faccio vedere io la pizza. Do una pizza che non vi dico. Qua si gode. Qua si gode, qua si gode, qua si gode. Questa ha anche la postura, veramente? O meglio, forse non era la postura, ma era la resistenza. Ai colpi subiti. Credo. Ha un sacco di meccaniche a questo gioco. Sono le classiche meccaniche da gioco d'azione con i combattimenti, eh. Non è che... Però... Non è male, non è male. Povero ragazzo. Non potevi salvarlo. Ma noi abbiamo fatto il possibile. Allora, prendiamo questa... Questa arma. Quindi ci sono anche le armi. Ammazza. Vabbè, ma sleghiamoli questi porracci, no? Li lasciamoli legati? In malo modo? Aia. Non venire troppo vicino. Aia. Bello. Bello. Bello come il sole. Questo attacco. Ok. Sono ancora altri bozos dietro la porta. È ora di... Di farlo show. Allora. Focus. Ah, ho capito. Prendiamo l'arma che è meglio. C'è anche la foto mode. Ah. Vabbè, ora non ci interessa. Però c'è anche la foto mode. Ok. Eh, sono diversi obiettivi. Eh, va bene. Ah. Un attimo. Puoi lanciare anche le sedie. È fantastico. Cattiveria, raga. Io adoro questa... Questa arma. Adoro la follia. Mi sa che questo qui ha fatto una brutta fine. No. Anche le pistole. Perfetto. Ah, devo dire che... In generale... Il gunplay non è male. Non è male. È tempo di andare nelle strade. Attenzione. Nelle strade. Così di botto. Noi abbiamo il nostro primo maggiore obiettivo Per dargli violenze, insomma. Per dargli... Per attaccarli in poche parole. Adesso non so come dirlo. In questo momento. Va bene. Va bene. Devo dire che l'inglese Non è proprio quell'inglese facile facile Che capisci al primo step È un inglese un pochino più complicato Quindi non lo consiglio a tutti Perché per chi non sa bene l'inglese Non è un gioco semplice da capire Questo è il tuo hideout Un posto dove tu puoi costumizzare il tuo personaggio Attraverso livelli New skills e altro Va bene. Allora qui si può continuare C'è il livello progression Le sfide I nemici I soldi che hai Un sacco di roba Che devo fare io nel senso Abbiamo affrontato i bozzos Ok e questo Sono 40 posti 40 livelli È molto Molto lungo Sembrerebbe questo gioco Allora Skills e upgrade Abbiamo un punto Combina attacchi Potenti Con attacchi meno potenti Ok Sto cercando di capire Qual è Forse questo è meglio Parry and counter Enemy attacks Si Para più facilmente E contraattacca E gli attacchi Dei nemici Io farei questo Detta sinceramente Apparence Abbiamo Ah costa Non mi piace Quello Scusate Questo ecco Questo li possiamo comprare Questo si Poi sono tutti Gli archivi Le cose Campagna progresso 2,44% È un gioco Questo che dura Sulle 30 ore Secondo me Forse qualcosa di meno Però Dura abbastanza Ragazzi Io per il momento Direi che Che mi fermo qua Io mi fermo qua Vi ringrazio Per aver visto Questo primo video Di questo gioco Che comunque Mi ha Incuriosito Mi è piaciucchiato Ve lo consiglio Dateci Datevi una chance Perché è un gioco Interessante A patto che Riusciate A darvi Non so A darvi pace Per la mancanza Del doppiaggio O del Sottotitolato In italiano Ecco Che quello è Per alcuni Può essere Un problema Quindi Titolo che Come dico Non mi è dispiaciuto Anzi Mi ha divertito Quindi è un buon Segnale E Se volete altri episodi Fatemi sapere Che ve li porterò Con entusiasmo Ci becchiamo Alla prossima Vi ricordo Anche i link In descrizione Per supportare il canale E grazie ancora Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti